Tragedia alle prime luci dell'alba, torrette di Fano, settantenne, muore lungo la spiaggia. Auto contro monopattino all'interno della rotatoria di Via Pertini, sessantenne, finisce all'ospedale in codice giallo. Bilancio positivo per il settore della ristorazione in merito alla settimana di Ferragosto. Com'è andata la settimana di Ferragosto? Discretamente, il tempo ci ha dato una bella mano, c'è stato un bel movimento. Imbarcazione affonda al porto di Fano, paura per lo sversamento in mare di carburante, intervento tempestivo di capitaneria e protezione civile per scongiurare il peggio. Sicurezza stradale precaria in zona porto e numerosi incidenti anche di gravi entità, scatta una interpellanza dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Fano. Urbino è lutto per la morte di Giorgio Cerboni Baiardi, la sua attività professionale all'interno dell'università, nell'amministrazione comunale e all'Accademia Raffaele. Alla corte malattestiana di Fano domani sera un evento benefico a favore del comune di Cantiano. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Risveglio shock questa mattina a Fano, stamane alle 5.30 circa in riva al mare a Torrette. È stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo settantenne di San Costanzo a trovarlo un addetto della pulizia della spiaggia che ha immediatamente allertato il 118. Sul posto la polizia, i carabinieri e la capitaneria di Porto di Fano. Al momento del ritrovamento l'uomo indossava una t-shirt e pantaloni della tuta. Restano ancora da chiarire le cause del decesso. E un settantenne in vacanza a Fano ha perso la vita ieri mattina in spiaggia a causa di un malore avvenuto dopo essere rientrato da una nuotata a largo della costa. Il fatto è avvenuto a Torrette intorno alle 6 di mattina, poco lontano dal fatto accaduto quest'oggi. Una volta arrivato a riva l'uomo ha accusato un malore e tempestivo è stato l'intervento di alcune persone in spiaggia che hanno cercato di soccorrerlo in un primo momento in attesa dell'arrivo del 118. Una volta arrivati i medici sono riusciti subito a rianimarlo ma poco dopo per il settantenne non c'è stato nulla da fare a causa di un secondo malore che lo ha colpito. Sul posto anche la capitaneria di porto di Fano. E un settantenne in vacanza a Fano ha perso la vita ieri mattina in spiaggia a causa di un malore avvenuto dopo essere rientrato da una nuotata a largo della costa. Il fatto è venuto a Torrette intorno alle ore 6 di mattina, poco lontano dal fatto accaduto quest'oggi. Una volta arrivato a riva l'uomo ha accusato un malore e tempestivo è stato l'intervento di alcune persone in spiaggia che hanno cercato di soccorrerlo in un primo momento in attesa dell'arrivo del 118. Una volta arrivati i medici sono riusciti subito a rianimarlo ma poco dopo per il settantenne non c'è stato nulla da fare a causa di un secondo malore che lo ha colpito. Sul posto anche la capitaneria di porto di Fano. E i vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio sul monte San Bartolo per soccorrere una persona colta da malore mentre stava percorrendo il sentiero. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Pesaro con il supporto del personale SAF Spelio Alpino Fluviale e l'elicottero Drago 53 del reparto Volo di Arezzo che hanno raggiunto la persona insieme al personale del 118 poi trasportata a bordo dell'elicottero in Barella per il trasporto all'elisuperficie di Pesaro. Presente anche il soccorso alpino. Un settantenne in vacanza Fano invece ha perso la vita ieri mattina in spiaggia a causa di un malore avvenuto dopo essere rientrato da una nuotata a largo della costa. Il fatto è avvenuto a Torrette intorno alle 6 di mattina poco lontano dal fatto accaduto quest'oggi. Una volta arrivato a Riva l'uomo ha accusato un malore e tempestivo è stato l'intervento di alcune persone in spiaggia che hanno cercato di soccorrere in un primo momento in attesa dell'arrivo del 118. Una volta arrivati i medici sono riusciti subito a rianimarlo ma poco dopo per il settantenne non c'è stato nulla da fare a causa di un secondo malore che lo ha colpito. Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Fano. Incidente stradale questa mattina intorno alle 9.10 all'interno della rotatoria di via Pertini e via 4 Novembre. Ad essere coinvolti nel sinistro stradale un'auto, una Citroen guidata da un fanese di 59 anni e un monopattino condotto da un sessantenne del posto. Secondo una prima ricostruzione l'autoveicolo proveniente da via Pertini in direzione Ancona-Pesaro arrivato alla rotatoria non ha rispettato lo stop andando così a scontrarsi contro il monopattino che transitava all'interno della rotonda. Il conducente del veicolo a due ruote è stato trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso di Fano in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Fano per i rilievi di legge. Ed ora ci spostiamo a Pesaro dove questa mattina abbiamo intervistato alcuni ristoratori per fare un bilancio sulla settimana di ferragosto appena trascorsa. Marco Lonigro. La settimana di ferragosto è ormai alle spalle ed è tempo di tirare le somme. Pesaro può sorridere nei sette giorni più attesi dell'intero mese di agosto. Il bilancio legato al turismo così come alla ristorazione è soddisfacente. Tutto sommato si pensava peggio visto quello che era stato i mesi precedenti, quello che si diceva e soprattutto i dati non confortanti che arrivavano poi anche dalla posizione degli alberghi. Tutto sommato insomma ce la siamo cavata. In linea con quello che è stato anche diciamo quello che è successo l'anno scorso. Credo che ancora diciamo non ho diciamo tirato le righe ma penso che siamo sugli stessi numeri. Anzi devo dire che forse avremo anche qualcosina in più. No siamo decisamente contenti. Discretamente il tempo ci ha dato una bella mano, c'è stato un bel movimento. Numeri positivi rispetto all'anno scorso? Sì diciamo che siamo più o meno in linea con l'anno scorso, adesso presenza più, presenza meno, però diciamo che tutto sommato siamo sullo stesso standard. Meglio a pranzo o a cena? Diciamo che a pranzo siamo su un pochino di più. A cena o meno male noi abbiamo quei posti lì, li riempiamo più o meno tutte le sere, quindi diciamo che la sera è rimasta uguale. A pranzo qualche coperto in più si è fatto. La bella stagione è giunta alle battute finali ed è quindi possibile tracciare un primissimo bilancio. È caldo, la gente esce, ha voglia di uscire, ha voglia di divertirsi, quello che si nota è che c'è meno disponibilità anche economica, quindi sono un po' più attenti, sono più cauti anche nell'ordinare, nel fare la scelta del ristorante e quindi diciamo che il trend sarà questo anche in avanti. Ero preoccupato inizialmente perché comunque sappiamo tutti che maggio è stato un mese molto difficile e pian piano però da giugno in poi, dalla seconda di giugno, perlomeno qua nel mio ristorante la stagione è partita e poi c'è il plus di parecchi stranieri che insomma stanno venendo in occasione del Rossignopera Festival o devo dire che ho riscontrato negli ultimi tempi e questo mi rende molto felice che già inizia a girare la voce del Pesaro capitale della cultura 2024 e già molta gente, cioè molta, ho avuto insomma qualche cliente che è venuto perché ha scoperto questa città anche da molto lontano, l'altra sera dei clienti dalla Pensilvania. Ci sono diciamo più situazioni che danno da pensare bene, soprattutto per 2024 ecco. Al porto di Fano questa mattina una imbarcazione ha iniziato ad imbarcare acqua, forse a causa di una falla. Il fatto è avvenuto prima delle ore 8 tempestivo, è stato l'intervento della Guardia Costiera di Fano che in collaborazione con la protezione civile ha subito circoscritto l'aria con delle panne galleggianti apposite per scongiurare la propagazione in mare del gasolio. Per fortuna la barca non aveva all'interno una grossa quantità di carburante, successivamente sono stati inseriti dei panni olioassorbenti per tamponare la fuoriuscita. Ora l'imbarcazione verrà recuperata tramite l'ausilio di una grossa gru e del supporto di personale specializzato. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in quanto il natante era fermo da diverso tempo. Sicurezza stradale precaria in zona porto, incrocio tra via dei caduti del mare e via della marina con continui incidenti. I consiglieri del Movimento 5 Stelle di Fano hanno presentato un'interpellanza. Sentiamo. Mi dispiace, dovrei essere qui ancora per la quarta volta in cinque anni a dire le stesse cose. Purtroppo io i primi tre anni ho avuto nessuna risposta, nessuna sensibilità né degli assessori per una questione molto molto grave che è l'inquinamento acustico, cioè questa situazione di questa strada dove i motociclisti fanno strami di tutte le regole, di tutte le civiltà e di tutti i codici stradali. Quest'anno, nell'ultimo mese, ho avuto qui testimonianza di tre incidenti nell'arco di... Non è anche un mese che mi hanno condotto a rifarmi vivo, a chiedere alle autorità, alle istituzioni qualche cosa di più di quello che hanno fatto mettendo uno specchio e ripitturando qui gli stop. Noi chiediamo qualcosa di più, chiediamo dei dossi, che sono l'unica cosa che fanno rallentare questi pazzi motociclisti, che fanno quello che vogliono. L'ultima ciliegina sulla torta è all'incrocio tra via Dante Alighieri e via della Marina, oltre i cambiamenti del senso unico che fanno le giorni alterni per creare una confusione che non le dico per gli utenti, ieri sera ho letto per terra un vincolo di andare a destra e leggendo i segnali che sono sull'asta davano invece l'obbligo a disegnare a sinistra. Vi ringrazio ancora voi, Panaroni, i 5 Stelle, che sono gli unici che fino adesso, oltre Fano TV, che mi hanno dato modo di parlare e dire la mia opinione ma nessuno mi ha convocato per parlare nel dettaglio di questi problemi. Come Movimento 5 Stelle Fano siamo sempre stati vicini a quelle che sono le varie istanze e le segnalazioni che ci provengono dal territorio in modo particolare quando si tratta di sicurezza. Qui in questo incrocio tra via Caduti del Mare e via della Marina purtroppo la sicurezza viene a mancare molto spesso è vero che l'amministrazione ha portato degli accorgimenti come lo stop nuovo ridisegnato sull'asfalto però non è sufficiente. Invitiamo e con questa interpellanza siamo venuti sul posto per verificare e porteremo in Consiglio Comunale appunto questa interpellanza per trovare delle soluzioni perché pensiamo che il ruolo del Consigliere Comunale anche d'opposizione non sia solamente quello di creare il polverone ma sia quello di provare a trovare delle soluzioni condivise con l'opposizione ma anche con i cittadini che abitano il territorio perché chi meglio di loro conosce quali sono le varie problematiche. Qui ci sono delle soluzioni da trovare, dei dossi, dei rallentatori, dei controlli più frequenti, non lo so, lo faranno i tecnici ma è fondamentale che si dia la possibilità ai Consiglieri Comunali e ai cittadini che risiedono sul posto di trovare assieme in maniera condivisa delle soluzioni funzionali che aumentino la sicurezza sulla strada in modo particolare qui al porto, estate, parcheggi, il traffico è molto più intenso trovare una soluzione che aumenti la sicurezza tutti insieme. E oggi pomeriggio intorno alle 16.30 si è verificato un altro incidente proprio su quel punto come potete vedere da questa fotografia dove ha visto coinvolte due autovetture. Il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, esprime il cordoglio dell'amministrazione per la scomparsa del professor Giorgio Cerboni Baiardi di 91 anni. La notizia, commenta il sindaco, mi ha lasciato commosso e rattristato. Con il professor Cerboni Baiardi se ne va una figura che ha lasciato un'impronta significativa nella storia della nostra città a cui è stato legato per tutta la vita. La sua attività professionale all'interno dell'università, il suo impegno nell'amministrazione comunale dove fu anche vice sindaco e dell'Accademia Raffaello lo hanno reso un riferimento per la vita culturale, politica e civica urbinate. Il funerale si svolgerà domani martedì alle ore 10 nella chiesa dell'Annunziata. Ed ora parliamo della Fontana della Fortuna perché mercoledì sera 23 agosto alla Corte Malatestiana si presenterà alla città la nuova riqualificazione che darà così lustro alla piazza di Fano. Sentiamo. Mercoledì 23 agosto alla Corte Malatestiana di Fano si svolgerà un nuovo incontro redatto dall'amministrazione comunale sulla presentazione della riqualificazione della Fontana di Piazza 20 Settembre. Il ciclo di incontri aperto ai cittadini dal titolo I luoghi della cultura vedrà l'illustrazione degli interventi insieme ad alcuni cenni storici sulla Fontana. Un progetto su cui insieme agli uffici tecnici ma anche all'architetto Martufi e a un restauratore stiamo lavorando da più di un anno e mezzo. Un lavoro complesso, un lavoro che abbiamo fatto proprio a strati perché appunto è stato approfondito uno studio su più livelli. a nuvola di punti dall'alto attraverso un drone per capire un po' la formazione perché ricordiamo questa è una Fontana che a fine del XVII secolo si trasformò da quello che era un profilo rinascimentale invece poi a quello che invece oggi assume proprio veramente un'identità quasi barocca. Quindi in questo caso noi oggi con questa nuova riqualificazione perché l'ultima risale al 2003 che è stata fatta dal club Lions al quale siamo grati ma oggi era assolutamente necessario non solo rigenerarla ma anche lavorare su tutto quello che è la parte bassa della parte idraulica e soprattutto nella rivalorizzazione e nel riconsolidamento di tutti quelli che sono gli elementi scultori. Una vera novità ci sarà perché grazie a questo studio abbiamo scoperto che c'è un gradino che è stato un po' sommerso dalla nuova pavimentazione per cui faremo riemergere alla luce anche tutti questi elementi che hanno fatto della Fontana proprio un elemento identitario a tutti gli effetti. Un intervento dal costo di circa 220 mila euro e con termine dei lavori nella primavera del 2024. Il progetto di riqualificazione della Fontana della Fortuna viene presentato all'interno del ciclo dei luoghi della cultura perché? Perché afferisce la piazza e la piazza è un luogo della cultura quindi in questo in questa occasione noi presenteremo il progetto di riqualificazione della Fontana ma racconteremo anche la piazza. La piazza che è un luogo della cultura lo abbiamo visto, lo abbiamo visto da anni quando ospita eventi importanti in primis passaggi festival ma quest'anno anche il cinema che per la prima volta nella storia di Fanno è arrivato in piazza con un enorme successo, vediamo che la piazza è un luogo fondamentale per ospitare eventi, un luogo fondamentale per la cultura quindi racconteremo la piazza, la sua storia, le sue curiosità e così capiremo anche perché il terzo gradino è stato nascosto, capiremo cosa nasconde la piazza sotto e cosa ospitava sopra anche nel passato. Ed ora apriamo la pagina dedicata alle vostre segnalazioni e torniamo nuovamente in via Andrea Doria a Ponte Sasso di Fano. Il telespettatore ci invia un nuovo video per segnalare la strada ancora chiusa da fine luglio a causa di un traliccio telefonico pericolante. Tutt'oggi non ho avuto ancora spiegazioni valide, scrive il segnalatore, né dall'ufficio viabilità del comune di Fano né dalla polizia locale in merito alla soluzione del problema. È veramente vergognoso. C'è tempo fino alle ore 13 di venerdì 1 settembre per partecipare al bando e richiedere i contributi previsti dal Fondo Anticrisi 2023 che l'amministrazione ha deciso di destinare all'emergenza casa. Le risorse complessive consentiranno di sostenere le famiglie residenti nel comune di Pesaro attraverso un contributo che copre l'80% dei costi d'affitto fino ad un massimo di 350 euro a nucleo beneficiario. Possono chiedere i contributi a sostegno delle spese sostenute per i canoni di locazione i cittadini residenti a Pesaro nell'alloggio per il quale si chiede il contributo. Gli stessi non devono essere titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un'abitazione e avere un reddito attestato da valore ISEE in un superiore ai 6.543 euro. Sono esclusi i residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica sonvenzionata o reperiti attraverso iniziative intraprese dal comune o altro ente pubblico. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica tramite l'apposita sezione del portale nel comune di Pesaro nella sezione accedi ai servizi. L'ammontare del contributo da assegnare ad ogni singolo nucleo sarà dell'80% del valore del canone mensile versato nella misura massima di 350 euro. Per agevolare lo svolgimento della fiera di San Bartolomeo a Fano in programma da giovedì 24 a sabato 26 agosto ASET comunica alcune variazioni riguardante la fruizione delle aree di sosta. In zona Sassonia verrà chiusa la circolazione sul viale Adriatico a partire dall'incrocio con viale Battisti all'altezza dell'anfiteatro Rastat fino a via Nazario Sauro all'incrocio con via Caduti del Mare. Per questo non saranno fruibili le aree di sosta a pagamento di viale Adriatico, di piazzale Rastat, di largo Gerboni, del piazzale del Mercato Ittico e di via Nazario Sauro. In zona Lido verrà chiuso un tratto del lungomare di viale Simonetti dal ponte sul porto canale fino a piazzale Amendola. Per effetto di tali modifiche resterà invariata la fruibilità delle aree di sosta a pagamento di viare Cairoli, piazzale Amendola e via Spontini. Per quanto riguarda i rifiuti saranno garantiti i servizi di raccolta porta a porta. Domani a Fano andrà in scena l'evento beneficiario a favore del Comune di Cantiano. Dopo aver ascoltato nei giorni scorsi le parole del Sindaco Piccini, questa sera scendiamo nei dettagli del programma. È passato quasi un anno ormai dall'alluvione che ha messo in ginocchio il Comune di Cantiano, Fano però non dimentica e continua a dare il proprio contributo, in questo caso con un evento benefico, da chi è nata l'idea? Beh, allora a maggio ero a fare un aperitivo con Sara Angherà, che è la manager del Fano Gospel Choir e con una nostra comune amica di Cantiano, vive Roma ma è di Cantiano e ci ha raccontato di quello che era successo alla sua casa, delle varie tragedie sfiorate anche e non durante l'alluvione e ci ha pronunciato una frase che mi è rimasta molto impressa e dice se non hai la casa invasa dal fango non ti rendi conto della tragedia e a quel punto io e Sara ci siamo guardate e abbiamo detto vabbè è vero è passato un anno, logicamente le luci della ribalta si spengono inevitabilmente perché il mondo logicamente va avanti, però sono nostri vicini di casa e quindi ci faceva piacere continuare a ricordarli e poterli dare una piccola mano, un piccolo aiuto, quindi abbiamo deciso di organizzare questo evento che è invito a corte. Si svolgerà la corte malatestiana il 22 di questo mese, dalle ore 20 partiamo con un aperitivo offerto da due aziende del territorio per passare poi alla parte più artistica, appunto il coro e Ex Novo, la nuova compagnia teatrale. I ragazzi di Ex Novo hanno scelto di leggere alcune poesie di Whitman perché è un poeta americano e perché l'idea di solidarietà in America è molto forte, era molto forte perlomeno nell'Ottocento al periodo del poeta, l'America è la terra dove tutti hanno una possibilità e quindi questa idea di solidarietà americana ha spinto alla scelta di questo poeta e ovviamente i canti gospel sono canti americani. Al progetto collabora anche l'ente carnivalisca? Certamente sì, potete vedere. Sì, ovviamente nella parte più burocratica diciamo e anche perché all'ingresso della corte malatestiana ci sarà il voulon ad accogliervi con una piccola mostra proprio sul voulon. Sarà invece il coro che cosa ci farà sentire? Il coro parteciperà a questa serata in beneficenza per Cantiano con un repertorio spirituale ma che diciamo che facciamo più un viaggio, vogliamo partire dallo spirituale per arrivare verso il gospel più moderno anche per arrivare a un pubblico più eterogeneo insomma, per poter arrivare un po' a tutti. Chi saranno nel vostro caso i protagonisti dell'iniziativa? Il coro si è reso appunto protagonista con la direzione di Caterina Di Placido, nomino anche la presidente del nostro coro che nasce nel lontano 97 quindi insomma lo sta portando avanti ormai da tanti anni e sul palco con noi ci accompagnano i nostri fedeli musicisti Emilio Marinelli alle tastiere, Mattia Leoni alla batteria e Giovanni Golaschi al basso. Invece all'aperitivo abbiamo lo stesso un altro grande musicista conosciuto come il cantante degli sciampisti che a Fano insomma sono noti e conosciuti e ci accompagnerà all'aperitivo Stefano Cuccaroni, voce piano. Sarà necessaria la prenotazione? Obbligatoria la prenotazione sì perché i posti insomma sono ridotti, insomma non sono tanti presso l'ente carnevalesca o nei numeri che sono nelle nostre locandine manifesti insomma o nella pubblicità sui social. E concludiamo questa edizione aprendo il grande album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a Leardo e Graziella Alessandrini di Fano che oggi hanno raggiunto i 50 anni di matrimonio. Tanti auguri da parte dei parenti, degli amici e naturalmente da tutto lo staff di Fano TV. E questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento dedicato alla Federcaccia sul convegno che si terrà il 25 agosto alla cooperativa Tre Ponti di Fano. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.